decadono le zone arancioni rafforzate marche tutte in giallo partiti i vaccini cinquantenni via al lab di gradara fano in lutto per la scomparsa di fabio guccioni pesaro celebra la giornata contro l'omobitransfobia una buona serata e un buon lunedì a tutti voi telespettatori di rossini tv che ci seguite sul canale 633 del digitale terrestre questa è rossini news il nostro telegiornale di questo 17 di maggio che apriamo concentrandoci sulla situazione sanitaria nella nostra regione una situazione in miglioramento tant'è che da mercoledì decadranno i provvedimenti di zone arancioni rafforzate che per quello che riguarda la provincia di pesaro e urbino stavano interessando i comuni di acqualagna e di petriano dallo scorso 12 maggio un allentamento che è stato anticipato oggi dallo stesso governatore francesco acquaroli nonostante alcuni territori hanno manifestato e continuano a manifestare per oltre due settimane una superiorità dell'indice di 250 su 100 mila dall'altra parte della nostra regione sta andando sotto i 100 sul 100 mila il che significa che siamo in una situazione complessivamente accettabile e che quindi in questa fase dell'epidemia e dell'andamento epidemiologico della nostra regione non proseguiremo con la chiusura di quei comuni che manifestano delle difficoltà è chiaro che se il tasso supererà di nuovo 100 su 100 mila dovremo intervenire perché voi sapete che sui criteri che si stanno discutendo dal prossimo decreto potrebbe essere introdotto probabilmente sarà introdotta la fascia arancione per chi supera 150 su 100 mila quindi noi dobbiamo garantire un livello basso della della cercare di garantire un livello basso dell'andamento epidemiologico e questo si fa intervenendo nei comuni che manifestano delle difficoltà però quando poi il livello è molto buono molto buono per quello che è sempre in una fase di pandemia in una fase di difficoltà complessiva però abbiamo un risultato che ci consegna sotto i 100 quindi credo che in questo momento non andiamo sicuramente a pesantire la situazione economica tutti i comuni della nostra regione non avranno provvedimenti perché la regione è scesa sotto i 100 è del 47,5 per cento la percentuale di marchigiani che ha ricevuto almeno una dose di vaccino ed è del 16 per cento quella dei cittadini regionali che hanno completato l'intera profilassia anti covid sono questi i numeri con cui le marche si sono presentate oggi al via delle prime somministrazioni cominciate per i cittadini fra i 50 e i 59 anni prenotazioni che erano cominciate sabato così come sabato è iniziata anche la campagna di vaccinazione arricchita dal primo centro di prossimità della nostra provincia quello del palazzetto dello sport di gradara un centro di vaccinazioni dedicato ai cittadini dei comuni di gradara gabice mare e di tavuglia si continuerà in questo centro in questo palazzetto dello sport di gradara almeno per altri due sabato di maggio e si confida di fare altrettanto anche nel mese di giugno un importante risultato conseguito insieme col comune di gabice mare di tavuglia anche quindi uno sforzo congiunto per allestire questo punto vaccinale della popolazione primo nella provincia di peso urbino il messaggio è questo è chiaro vacciniamoci velocemente anche per riuscire rapidamente da questa situazione di cui siamo tutti stanchi il messaggio è stato colto che questa mattina già alle 8 c'erano diverse persone in attesa fuori dal palazzetto quindi siamo molto contenti dell'ottima partenza le prossime date saranno sabato 22 maggio e sabato 29 con la speranza di prorogare i sabato di mattina anche nei mesi di giugno questo dipenderà dalla disponibilità dei medici di base sono loro che faranno chiaramente l'anamnesi oltre agli infermieri volontari che ringrazio e che faranno poi effettivamente il vaccino ma senza i medici di base a fare l'anamnesi sarà difficile riuscire a prolungarlo questo esperimento anche nei mesi di giugno quindi faccio anche un appello affinché i medici che vogliono darci una mano si aggiungano e ci diano la disponibilità a qualche sabato mattina un ringraziamento speciale va a tutti quanti i medici che hanno aderito e gli infermieri all'Azur che ci ha permesso di realizzare questo punto vaccinale all'interno del nostro palazzetto che siamo un po' il punto centrale tra i due comuni Tavuglia e Gabizce quindi strategicamente il palazzetto di Gradara è perfetto per questa operazione e ringrazio tutti quanti i volontari della protezione civile della Croce Rossa, dell'Auser e dell'Avis che ci stanno dando una mano nella gestione dei flussi all'interno del palazzetto se tutto va secondo le previsioni se riusciamo a continuare grazie alla disponibilità dei medici di base anche per il mese di giugno oltre questi tre sabati di maggio contiamo di vaccinare sui 150-200 persone al giorno solo il sabato chiaramente, solo il sabato mattina e quindi di raggiungere numeri importanti per le nostre comunità voglio ricordare che fra Gabizce, Gradara e Tavuglia raggiungiamo una popolazione di circa 15-16 mila abitanti se consideriamo già gli ultra settantenni che sono stati vaccinati a Pesaro e i giovanissimi che non saranno vaccinati pensiamo di dare un grosso contributo comunque a questa importante iniziativa che è la vaccinazione e sono 53 i nuovi casi positivi al Covid-19 emersi da una giornata con pochi tamponi effettuati come ogni lunedì susseguente al weekend 11 i casi rilevati in provincia di Peso Rubino su 1.276 tamponi totali di cui 621 nuove diagnosi il rapporto positivi testati è dell'8,5% nella giornata di ieri nelle Marche si è registrato un solo decesso di persone contagiate da Covid-19 e in un asilo nido di Pesaro un bambino di 2 anni è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo essere venuto a contatto con una pasticca di veleno per topi un episodio grave ma per fortuna senza conseguenze che ci viene spiegato nel servizio di Edoardo Razzi se l'asilo deve essere un posto sicuro di certo non bisogna trovarci veleno per topi invece è quello che è accaduto nel quartiere di Pantano nel giardino dell'asilo nido Mondogaio qui una pasticca di topicida è finita fra le mani di un bimbo di 2 anni che non sapendo cosa fosse l'ha afferrata portandola impulsivamente alla bocca la notizia, come ha riportato il resto del Carlino è stata resa nota solamente ora pur essendo avvenuta lunedì scorso quando il bambino insieme ad una coetanea sono stati portati immediatamente all'ospedale di Fano per accertamenti dopo alcuni controlli i medici si sono assicurati che i due bambini non avessero ingerito alcuna sostanza nociva dimettendoli in breve tempo dopo le analisi sembrerebbe tra l'altro che la bambina sia risultata positiva al covid-19 l'accaduto seppur accidentale non è stato digerito né dai genitori né dal complesso scolastico che approfondendo la questione hanno rilevato come pochi giorni prima un'impresa di disinfestazione avesse sistemato del veleno per topi all'interno di alcune scatole la ditta coinvolta ha anche riferito di essersi accertata di non aver lasciato alcuna traccia di veleno ora però va chiarita la dinamica di un episodio grave ma che per fortuna si è rivelato senza conseguenze questa mattina a pesaro poco prima delle 11 un tir si è rovesciato mentre percorreva la rotatoria fra strada del monte feltro e strada fornace vecchia non lontano dal casello autostradale e dal centro commerciale obi l'autocarro che trasportava prodotti per la depilazione si è inclinato in maniera irreversibile mentre percorreva la rotonda sul posto polizia locale vigili del fuoco e 118 oltre a mezzi di soccorso e autogru per risollevare il camion e ripristinare la circolazione stradale deviata per qualche ora l'autotrasportatore un cinquantenne romagnolo non ha riportato ferite nell'incidente e continuiamo a parlare di sicurezza stradale perché tornano d'attualità le siligate dove da inizio anno era stato installato il New Jersey spartitraffico per poi essere rimosso dopo un mese e mezzo per una indagine della soprintendenza ora però l'ANAS ricorre al TAR per ripristinare la barriera prevista dal suo investimento vediamo prima sono stati installati i New Jersey spartitraffico poi sono stati rimossi travolti da un'ondata di polemiche di residenti di dibattito politico e soprattutto da una retromarcia imposta dalla soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche ora però sulla strada delle siligate il muro spartitraffico potrebbe essere ripristinato questa perlomeno è l'intenzione dell'ANAS che ha deciso di ricorrere al TAR di Ancona per reinstallare le barriere un monta e smonta che è diventato una telenovela andata in stallo per due mesi ma che ora è tornata ad accendersi con un contenzioso circoscritto fra la stessa ANAS e la soprintendenza l'ANAS era stata incaricata di trovare una soluzione che migliorasse la sicurezza stradale e dal 21 gennaio aveva cominciato a innalzare lo spartitraffico con relativo restringimento di carreggiata a fine febbraio però è arrivato lo stop della soprintendenza che ha richiesto l'avvio di un procedimento di autorizzazione paesaggistica che ha sospeso i lavori e portato alla rimozione dei New Jersey a inizio marzo un dietrofronto applaudito dai residenti che lamentavano grossi disagi dovuti all'effetto impattante del muro ma anche da associazioni ambientaliste che sottolineavano i gravi danni all'incolumità degli animali selvatici il sindaco Ricci si mostrò invece molto critico per il naufragio di una soluzione pensata per la sicurezza pubblica e sulla quale ANAS aveva investito oltre un milione e mezzo di euro comune di Pesaro che ora si estragna nella disputa in tribunale fra ANAS e soprintendenza il centrodestra in consiglio comunale a cominciare da Michele Redaelli aveva invece sollecitato la rimozione e ora auspica che l'ANAS desista da questo percorso giudiziario oggi 17 maggio è la giornata nazionale contro l'omobitransfobia Pesaro ha celebrato questo appuntamento issando questa mattina la bandiera dei diritti LGBT in Baia Flaminia in prossimità della foce del Foglia un sentimento di solidarietà esternato dall'amministrazione pesarese in un momento molto particolare come quello attuale fra il dibattito nazionale incentrato in merito al DDL ZAN e anche a quello locale con la recente aggressione a Fano di alcuni ragazzi vediamo è una giornata per dire ulteriormente bassa alle discriminazioni per invitare il Parlamento a fare davvero un passo avanti approvando il DDL ZAN l'Italia ha la possibilità di fare un passo avanti verso la civiltà verso la modernità verso il riconoscimento dei diritti civili è una battaglia che è molto diffusa nel paese le parole di oggi del presidente Mattarella fanno ben sperare perché è un giudizio netto chiaro inequivocabile che non solo parla agli italiani ma parla anche al Parlamento quindi spero davvero che questa volta sia la volta buona è una giornata che si celebra internazionalmente dal 2004 quindi sono diversi anni e con il DDL ZAN se approvato diventerà anche riconosciuto a livello nazionale e sono contento però che i comuni come ad esempio quello di Pesaro che fa parte della rete Reidi hanno già insomma si sono già attivati e collaboriamo proprio per combattere nel territorio ovviamente l'uomo lesbo-bitransfobia C'è un sacco da fare soprattutto di informazione direi prima di tutto perché molte volte neanche a livello scolastico anche le istituzioni non sono proprio preparate sui temi LGBT+, da un punto di vista proprio prettamente scientifico e neanche giuridico e questo è quello che cerchiamo di fare tra le tante altre cose insieme ai vari comuni compreso quello di Pesaro ovviamente Diritti sociali e diritti civili sono la faccia della stessa medaglia la dignità e questo che vogliamo testimoniare anche con la nostra presenza oggi qui è una bandiera simbolica in una città che da sempre combatte in questo senso perché qui a Pesaro nel Pesarese avete visto il ragazzo di Fano ma anche il ragazzo di Montecchio che è stato aggredito i due ragazzi di Senigallia che hanno abbandonato il ristorante vediamo un'escalation e quindi su questo la società civile e le varie associazioni devono farsi forza fare squadra fare rete per far sì che le persone possano circolare liberamente e essere sicuri sia il DDL ZAN ieri abbiamo fatto una bellissima manifestazione che dice non un passo indietro noi vogliamo fare un passo avanti verso la libertà e la giustizia in questo paese per tutte le persone indipendentemente dalla razza dalla lingua dall'identità di genere dal sesso e quant'altro tuteliamo le persone perché quando si dice no alla violenza si vive in una società più inclusiva e più sicura Fano è in lutto per la scomparsa 65 anni di Fabio Uguccioni stroncato da una malattia con cui lottava da tempo Uguccioni era una personalità molto nota nella politica della città della fortuna prima con la democrazia cristiana e poi con l'Udc fu assessore ai servizi sociali durante la prima giunta del sindaco Aguzzi e fu presidente della fondazione Fano Solidale tantissimi i messaggi di cordoglio nella giornata odierna tra questi anche quelle del primo cittadino Massimo Seri e del vice presidente della regione Marche Mirko Carloni parliamo di un altro lutto perché morto stanotte una settimana dopo il compimento dei suoi cento anni Glauco Mancini conosciutissimo professore d'inglese che ha portato i suoi insegnamenti a tante generazioni di pesaresi e cambiamo completamente argomento perché ripartono anche gli eventi sportivi a Pesaro sabato e domenica sono attesi in Baia Flaminia 1300 atleti per la Triathlon Sprint Adriatic Series del 22 maggio e per i campionati italiani di Duotron del 23 maggio numeri altissimi per le gare combinate fra corsa ciclismo e nuoto promosse dalla società Flipper Triathlon Ascoli Piceno e nei giorni scorsi alcuni telespettatori ci avevano segnalato una situazione di vegetazione eccessivamente incolta lungo la ciclabile di via Belgioioso nel quartiere di Pantano proprio oggi l'Aspes ha però effettuato diversi interventi al verde pubblico in varie zone di Pesaro con lavori di sfalcio e manutenzione potando proprio anche le erbacce nell'area interessata da questa segnalazione e a tal proposito vi ricordiamo come sempre il numero whatsapp 370-366-7210 al quale potete inviarci foto video o segnalazioni anche in semplice forma testuale ed ora lo sport che in questo lunedì è dedicato principalmente a due squadre della nostra provincia capaci di raggiungere una prestigiosa semifinale di tal service è infatti di nuovo fra le quattro pretendenti allo scudetto di calcio a 5 allo stesso modo la megabox Vallefoglia in semifinale per tentare la promozione nella serie 1 di pallavolo femminile 8 gol scaccia pensieri ed è semifinale l'Ital Service è ancora una volta fra le quattro pretendenti allo scudetto di calcio a 5 coach Colini aveva suonato la sveglia e la risposta è arrivata al palladino pizza l'Ital Service ha battuto 8 a 3 la signor prestito Matera in gara 3 dei quarti di finale doppietta di De Oliveira Borruto e Canal e reti di Marcellini e Tony Dandel per una Ital Service che guadagna la semifinale dove affronterà la vincente fra Feldi Eboli e Padova accoppiamento al momento bloccato da un focolaio di covid al pari della data della semifinale e sarà semifinale anche per il volley del territorio quella conquistata dalla Megabox Vallefoglia che entra tra le quattro pretendenti per la promozione in serie a 1 di pallavolo dopo la vittoria per 3 a 2 su Soverato ottenuta al Palladionigi di Montecchio una semifinale che ora si giocherà contro Sassuolo gara 1 mercoledì in terra emiliana non si è invece disputato nel calcio lo spareggio per restare in serie cifra Alma-Juventus-Fano e i Molese i Granata viaggiano ora a tamponi quotidiani dopo i casi di positività al covid-19 emersi giovedì che hanno indotto l'Asur a intimare l'alt alla disputa del match probabile che la partita venga giocata sabato 22 maggio e con lo sport si concludono qui le notizie del nostro telegiornale prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questo lunedì 17 maggio alle 21.15 prevede l'ultimo appuntamento con Ascoltiamo il territorio Condividiamo il programma ciclo di incontri per la raccolta delle istanze per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della regione l'incontro in questione si riferisce a quanto avvenuto giovedì a Monbaroccio in particolare nel convento delle Beato Sante ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornali Rossini News da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi Grazie a tutti